Napoli, 15 maggio la protezione civile della regione Campania ha emesso un'allerta meteo arancione valida dalle 21 di lunedì 15 maggio alle 21 di martedì 16 maggio. Infatti, specie sulla fascia costiera e sulle isole, è previsto un peggioramento temporale e anche forti, localmente venti forti prevalentemente da sud, con raffiche, mare mosso o molto mosso, mareggiate lungo le coste esposte. Il rischio connesso a questo scenario, ricorda la protezione civile della Campania, è idrogeologico diffuso sono possibili frane rapide colate fango, allagamenti, possibili voragini dovute a fenomeni erosione, scorrimento delle acque nelle sedi stradali e fenomeni rigurgito delle acque meteoriche con straripamento coinvolgimento aree urbane depresse, ruscellamenti, instabilità dei versanti. Si raccomanda ai sindaci, di attivare i centri operativi comunali tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile per prevenire, mitigare e contrastare il rischio idrogeologico prestare inoltre la massima attenzione alle comunicazioni ai comuni da parte della Sala Operativa del Protezione Civile. In considerazione forte vento del mare mosso o molto mosso, occorre anche verificare la corretta manutenzione verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti delle onde. Nelle restanti zone della Campania, dove sono previsti temporali e anche intensi, l'allerta meteo è di criticità gialla.